A un certo punto, ad aprile, aprile-marzo, si è detto chiaramente che Giletti poteva forse subentrare domenichene e poi è stato prontamente smentito dalla RAI. Però volevo chiedere a lei, questa è stata almeno una preoccupazione che l'ha sfiorata, visto che lei stessa ha detto al messaggero che l'ultima edizione è stata la peggiore di sempre, perché è stata oggetto di diverse polemiche, a volte anche gratuite, penso al caso d'Argen o al comunicato. Non c'è stato nessun caso d'Argen perché io non ho mai censurato d'Argen d'Amico, chiariamola una volta per tutti perché non accetto più polemiche gratuite, non le accetto più, non c'è mai stata nessuna censura col signor d'Argen. No, chiariamolo molto bene, chiariamolo molto bene, andatevi a rivedere, d'Argen ha avuto 17 minuti a Sanremo, mentre gli altri ne avevano 5. A Sanremo sei cantanti non si sono esibiti, io ad Argen, con il quale avevo un rapporto di grande amicizia, con messaggini anche molto carini, ho dato un grande spazio, ma se vogliamo parlare di migrazione in 30 secondi non ce la fai. Ecco perché ho detto, forse non è il caso di parlarne qua, ho fatto 30 anni di Rai, 16 edizioni di Domenica In, tutti hanno parlato, chiunque è stato libero di dire qualsiasi cosa, per cui non accetto più da parte di nessuno che io abbia censurato qualcuno. Chiariamolo bene signora. No, 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 ma non si preoccupi, io questo mi ha molto caro. No, ma siccome è l'ultimo anno che faccio Domenica io e non mi frega più niente, è arrivato il momento anche di dire le cose come stanno. No, però perdonami, la mia domanda l'ho formulata in maniera diversa. Ebbè no, il caso d'Arge, ma che stai a dire, il caso d'Arge, ma che stai dicendo? Io ho detto che lei ha definito la sua ultima stagione peggiore di sempre e ho detto che è stato oggetto di diverse polemiche anche. Non la peggiore, la più faticosa. Lei non ha capito perché ho detto è stata la peggiore, lei non deve prendere una parola estrapolata. C'è stata una polemica che mi ha fatto molto male ed è diverso. Qual era la domanda, scusami Francesca? Io non è che sono venuta qua per agitarmi. Francesca, la seconda domanda. Vuole fare la domanda e io le rispondo, se non guardi. L'ho fatta all'inizio. Ma lei vuole la polemica, tirando fuori il caso d'Arge, è l'edizione peggiore, lei vuole la polemica. No, io non ho detto quella, la mia domanda era se all'inizio è stata meno sfiorata questa preoccupazione che ci possa essere... Nessuna preoccupazione, grazie. Perfetto, nessuna preoccupazione, grazie. No, ma aggiungo anche una cosa per dovere, diciamo, di completezza alla collega della stampa. Nessuno ha mai pensato, cioè all'ipotesi Giletti, ci ha mai pensato nessuno. Cioè evidentemente, lo dico io, se facessi il mestiere che fa Francesca D'Angelo, anch'io direi vabbè torna a Giletti probabilmente. Ma sono ipotesi, diciamo così, frutto di creatività giornalistica, legittima, ma non abbiamo mai parlato di un'ipotesi di questo genere. Cioè credo, penso, perché non mi sono occupato io né dell'arrivo né della, diciamo, collocazione né della... Sì, ma la stampa allora, ogni giorno tiravo fuori che Giletti faceva domenica e in se ben ti ricordi. Allora, io sono per la libertà di espressione, per cui se vuoi la stampa puoi scrivere quello che vuole giustamente, noi abbiamo il diritto di dire la verità, almeno la nostra. Va bene così. Allora, io sono per la libertà di espressione, per la libertà di espressione, per la libertà di espressione e per la libertà di espressione.